Di nuovo insieme a SOS Aghezzo TV, buonasera. Buonasera, come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Ti voglio dare una notizia, forse sarai molto sorpreso da questa notizia. Sono andati deserti i bandi che erano stati fatti per il cofinanziamento regionale per riqualificare il polo digitale, quello che doveva diventare il polo digitale. L'ex mercato ortofrutticolo e quindi siamo appunto a capo, nel senso che adesso il comune di Aghezzo ha annunciato un bando per trovare delle idee, anche ricreative, culturali, insomma di qualunque tipo di idea per... Per i carri di carnevale sarebbe spettacolare. La vuoi fare qui il carnevale? Una fortuna così, o sa, qui c'è un'altra. Benissimo andrebbe. Ce li vedi quei carri che ruote hanno tra... No, qui ci vede un bel parco. Un parco. Un parco. Ci vede un bel parco, perché qui di cemento ne abbiamo fatti anche troppo. Cosa guardi adesso? Guardo il bando, cosa hanno detto. Bisogna essere precisi. Ora sentiremo anche la voce del comune. Un bel parco. Comunque. Un po' di polmone verde. C'è la stazione di là, e vicino alla stazione ci starebbe bene. E magari recuperare soltanto lateralmente qualcosa di questi vecchi magazzini. E qui liberare tutta l'area e faccio un bel parco. Allora, saranno... Senti qui. Avviso pubblico. Per acquisire proposte progettuali per la valorizzazione e la gestione dei questi immobili. I progetti che arriveranno saranno poi valutati comparativamente. Quello ritenuto più idoneo sarà oggetto di una successiva gara per la concessione del servizio. Questo è nato come mercato ortofutticolo. Riconvertire una struttura così diventa veramente problematico. Che ti devo dire io? Un parco giochi ci facciamo. Un parco giochi? Quello che dovevano fare da qualche parte che non hanno mai fatto? Un parco giochi potrebbe essere buono. Ma... Però va buttando via tutto. Vite, va buttando questi tettogli che sono inutili. O se no che ci si fa? Un mercato... Un mercato delle pulci, fisso? Vai, facciamoci un bel parco. Buttiamoci tutto. Comunque, sentiamo in comune come hanno partorito queste idee, che sono curioso. Sentiamo un attimo. In questa prima fase andremo a individuare quelle che sono le idee generali delle aziende, delle aggregazioni di soggetti che vorranno in qualche modo intervenire all'interno dell'area. Ci presenteranno un progetto dal punto di vista economico, dell'investimento nell'area, dal punto di vista del piano economico finanziario, delle ricadute sul territorio. Quello che verrà valutato come miglior progetto verrà poi in una fase successiva messo a bando per andare ad individuare effettivamente quello che sarà il soggetto concessionario. Quali saranno i requisiti? I requisiti di fatto abbiamo fatto un bando abbastanza largo, di maglia abbastanza larga, quindi non abbiamo vincolato come era stato fatto nel passato a, come per esempio, polo digitale, piuttosto che a settori specifici. Quindi non ci sono requisiti, non ci sono indirizzi specifici da parte dell'amministrazione, potranno intervenire tutti i soggetti che lo riterranno opportuno e poi ci sarà una scrematura. Dice Comanducci che questi progetti devono portare una ricaduta sul territorio, sviluppo economico, sviluppo dell'imprenditoria innovativa e mercato occupazionale, soprattutto giovanile. Quindi bisogna coinvolgere imprenditori chiedendo loro idee dotate della giusta flessibilità e potenzialità. La scadenza è il 18 di aprile, ci vuole una soluzione progettuale, un piano di fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria. Ora, mi chiedo io, se sono andati deserti due gare per il polo digitale, è vero che qui c'era dovevi fare il polo digitale, c'era il cofinanziamento regionale, adesso chi è che, vabbè, per fare un'idea è un progetto che uno lo può fare, ma poi ci sarà anche da investirci, no? Chi è che può investire in un posto del genere? Ma, soprattutto, qui a livello industriale non ci fa assolutamente niente, perché siamo un mezzo, un'area densamente popolata. A livello commerciale, mi sembra che a questo punto qui, anche accanto, c'è cianzo del mercato e quindi non so qual'alternativa di progetti d'aria. Qui devi trovare una soluzione particolare. Io non penso che ci siano imprenditori a Rezzo che possano utilizzare quest'area se non a scopo ludico, a scopo ricreativo in quest'area qui, perché altrimenti la vedo veramente difficile. Non so che ci possa investire soldi qui che non abbia un ritorno abbastanza importante, perché considera che qui per recuperare quest'area ci vogliono soldi, tanti soldi. Perché questa è un'area costruita negli anni 60, dovevi venire la mattina alle 5 qui per vedere cosa c'era. C'era prima un mercato, il tuo futticolo, un mercato che era fiorente, e tutta la provincia veniva qui oggi. E quello era nato per quello, quindi diventa veramente difficile riconvertirlo. Le attrezzature, i garage, i fondi sono piccoli, quindi ci potrebbe venire una serie di attività commerciali, che faccio fare, mini outlet. Non saprei di quale, sinceramente anche l'imprenditore che viene qua ci deve investire una marra di soldi, quindi la vedo veramente difficile, meno veramente difficile. Poi sai, imprenditori che abbiano idee ci potrebbero essere, vediamo un po', oltre che idee ci vuole i soldi. Averci lasciato il mercato del tuo futticolo non facevano prima? Beh, può darsi di sì, può darsi di sì. Ma è stato costruito l'Exonove, in un'area in coscienza dei parcheggi, nella cattedrale del deserto. Quindi lì va bene adesso, perché magari qui a suo tempo era in periferia, oggi invece siamo in città, quindi ci sta anche, poi qui ristrutturare questo, effettivamente questa va una marra di soldi, più oltre più che fare un nuovo. Quello poteva essere, è stata una soluzione, diciamo che è stata positiva. Qui, a questo punto qui, la vedo dura, poter riconvertire tutta quest'area. Non ci vuole soltanto un imprenditore, ci vogliono una serie di imprenditori con delle idee e che ci facciano un qualcosa che abbia attinenza al luogo e fra di loro che abbia attinenza in modo tale da fare un polo qui dentro di qualsiasi cosa. Non vedo, io sinceramente non lo vedo cosa si possa fare, però... Come abbiamo già detto mesi fa, se non l'anno scorso, non mi ricordo quando c'era, forse l'anno scorso che siamo stati qui, diciamo che fatichiamo purtroppo a vedere uno sviluppo. Poi auguriamo di sbagliarci che arrivino queste idee. Beh, a volte si arriva l'idea pazza che effettivamente risolve. Che è un grande successo. Che è un grande successo. Forza l'idea. Anch'io nel tempo... Mandala tua, dici che voglio farci il carnevale, scrivigli. Accetta. Potrebbe essere la soluzione. Carnevale tutto l'anno. Ciao.